Sono le 18, comincia il giudizio universale Un corno porta fortuna, cento lire, accattate voi un corno Porta fortuna, un corno porta fortuna, solo cento lire Accattate voi un corno, cento lire, signori, un corno Non cinquanta lire, cento Mi chiamo in ordine alfabetico Io mi chiamo Zuzurro Un'amma mia incomincia con B e prima che ci arrivi A-A-A-B, Svizzera Si vede pure in televisione A-A-A-B Sono io Ti piace la zuppa inglese? No Ma che domande su queste? Sul coraggio Ti piace la zuppa inglese? Si Per una zuppa inglese tu lasceresti morire un cinese No Ce ne sono tanti di cinesi, 600 milioni No, no Uno più uno meno, coi tempi che corrono, sii sincero Su, rispondi Rispondi, credino Io non sono cattivo Sii sincero Annabelle, Parigi, Francia Annabelle, tu sei avaro E' lui E' lui Annabelle Ma no Io sono Annabelle Ah, scusami, mi sono sbagliato Annabelle Futier Annabelle, tu sei avaro Io avaro? Io avaro Ci deve essere forse un equivoco Diglielo Diglielo Un milione Digli che cosa hai dato ai poveri Per Natale Avanti Su dai E fatti uscire il fiato Non posso Non posso Ha dato Un milione Un milione Un milione E perché? Non due? Eh Amati Antonio Fuachille Via Panisperna 38 Scala C Interno 3 Roma, Italia Chiaro? Antonio Amati Sono io Ma perché ti sei conciato così? Spogliati Non bisogna travestirsi Ma io ho la mamma Anch'io ho la mamma Anch'io ho la mamma Anch'io ho mia mamma Mamma mia Che silenzio Max Ahas Düsseldorf Germania Max Ahas Tu hai imparato qualche cosa dall'ultima guerra? L'ultima guerra? No Abbiamo commesso un errore capitale Bisogna riconoscerlo Se avessimo usato i nostri poderosi mezzi corazzati Secondo il principio dell'attacco frontale Le sorti del conflitto sarebbero state Non c'è dubbio Le sorti del conflitto sarebbero state Decisamente a nostro favore Passiamo a un altro Do you speak English? No Sorry It's not